Gara fondamentale quella di Donington Park per quanto riguarda il mondiale superbike che è partito con un padrone, un leader del campionato e si esce dall'appuntamento britannico con il nuovo leader del campionato mondiale superbike che di fatto si riapre soprattutto per quello che è successo in gara 2. Racing Podcast di due giorni dopo dunque per quanto riguarda la quarta tappa del mondiale superbike che ancora una volta ha visto un duello molto molto interessante tra Troppo Racre, Rasgatioglu e Jonathan Ray con il turco che vincerà due gare su tre e torna a casa col bottino pieno complice un episodio molto importante in gara 2 capitato al cannibale della Kawasaki. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla premessa della gara di Donington appunto con Jonathan Ray che era in testa al campionato mondiale con Rasgatioglu che inseguiva poco più di 20 punti di distacco e con Ducati che invece appariva tanto in difficoltà. Tanto è vero che come vedremo poi nella classifica del campionato aggiornata ci sarà spazio per tanti outsiders e piloti che meriteranno i miei premi di rider del giorno. Sicuramente però il protagonista assoluto è il numero 54 della Yamaha ufficiale Toprak Rasgatioglu che fa veramente quello che vuole soprattutto nelle due gare lunghe quelle che contano di più e che seguono più punti a partire da quella del sabato pomeriggio una gara straordinaria del pilota turco che evidentemente capitalizza un assetto molto importante sulle condizioni miste di Donington al sabato. C'è stata una super pole race facciamo le giuste premesse bagnata con il cannibale Jonathan Ray che sembrava dare la paga veramente a tutti e diciamo allungare definitivamente in testa al mondiale e invece non è stato così perché la pista evidentemente si è asciugata e di conseguenza c'era spazio per quei piloti specialisti del misto che evidentemente potevano fare la differenza. E' stato così per Toprak Rasgatioglu che sul bagnato aveva reso veramente la paga dal cannibale partiva tredicesimo ma Rasgatioglu ha compiuto una delle più grandi rimonte della storia della superbike moderna dopo un giro neanche era in seconda posizione dopodiché ha tentato e ha concluso l'attacco. Su Jonathan Ray andando a stravincere la gara di Donington Park gara 1 veramente una prestazione suntuosa e già qui c'era il primo segnale di una grande capacità di Toprak di gestire le gare in varie condizioni e candidarsi seriamente come il antagonista vero di Jonathan Ray che da anni effettivamente correva un po' contro avversari leggermente inferiori o comunque sulla carta validi ma meno costanti di un pilota turco che veramente si sta costaccando come il talento più cristallino di questa superbike. Per l'ennesima volta peraltro in questa stagione suona la marcia dell'indipendenza l'innazionale turco che suonerà anche in gara 2. Suona invece God Save the Queen per quanto riguarda il cannibale Jonathan Ray che fa 104 in carriera vincendo la sprint race una gara un po' più facile in realtà rispetto alla gara di conserva diciamo così della giornata precedente del sabato pomeriggio qui Jonathan Ray in condizioni comunque più asciutte ma non letteralmente acqua misto asciutto della giornata precedente fa la gara che sa fare il cannibale prende saluta la compagnia e se ne va capitalizzando al meglio la proposition del sabato mattina è una gara fondamentale invece per quanto riguarda una casa produttrice in particolare ovvero la BMW perché ci sarà la prima doppietta sul podio della casa tedesca di Monaco con Tom Sykes e Michael van der Mark direttamente entrambi a podio. Suona dunque l'inno britannico per il cannibale Jonathan Ray God Save the Queen ma se si passa dalle stelle della Super Bowl Race per il cannibale si passa letteralmente alle stalle in gara 2. 13 giri dalla fine questa è l'immagine che decide di fatto la gara 2 e apre le porte a Toprak Rasgattioglu per la leadership definitiva al campionato mondiale. al netto che Ray si è rialzato ed è arrivato ultimo in gara lo so perché invece va a vincere ancora una volta in gara 2 e veramente fa bottino pieno. Una chiusa davanti a Jonathan Ray alla curva 8 di Donington lo estromette dalla competizione e di fatto spalanca la porta a quello che è effettivamente il gran bel duello che ci attende da qui fino alla fine del campionato mondiale che non è neanche a metà con Donington. Vi ricordo che siamo arrivati alla quarta gara su 13 di fatto considerato che appunto ogni gara ne ha tre distinte in una gara comunque che poi in realtà la quella della domenica pomeriggio evidentemente si è chiusa qui perché poi dopo tutte le altre posizioni sono state cristallizzate con un straordinario Garrett Gerloff in seconda posizione e un ancora più incredibile Tom Sykes in terza. Ma quello che più conta è ancora una volta Toprak Rasgatioglu vincitore per la seconda volta in due giornate e leadership del mondiale con pochissimi punti di distacco va detto ma evidentemente Toprak ripeto è il leader del mondiale e dell'avversario più accreditato degli ultimi anni per contendere il titolo al 6 volte consecutivamente campione del mondo il cannibale Jonathan Ray che con questi risultati appunto cede la leadership di soltanto due punti perché siamo a 181 contro i 183 del turco Toprak Rasgatioglu. Chi è mancato evidentemente in queste competizioni è purtroppo la mia Ducati, è una Ducati che ha preso paga verosimilmente da chiunque in questa gara di Donington è una Ducati che non era assolutamente perfetta, è una Ducati che è finita after the music. Una delusione grande è Scott Redding che appunto fa addirittura 2-0 nelle gare di casa cade al secondo giro di gara 1 finendo letteralmente per le terre e sbaglia le gomme in Superpool Race finendo addirittura ultimo stesso errore che capitò peraltro ad Aragon dove lì però limita i danni e finì ottavo qui veramente prestazione assolutamente incolore del pilota inglese che comunque rimane terzo del mondiale un po' graziato dalla città di Jonathan Ray limitando un po' i danni in gara 3 se così possiamo chiamarla con una quarta posizione che però è una quarta posizione un po' dolce amara perché con un po' di fortuna Redding poteva punterre al podio invece non ce l'ha cavata diciamo così e invece appunto raccoglie punticini che lo hissano terzo ma ha un'eternità di distacco dalla Gatioglu perché sono di fatto quasi 60 punti di distacco appunto tra il turco e il podio inglese Michael Rinaldi anche lui invece è una delusione forse ancora maggiore a netto che comunque da Rinaldi non ci si aspetta evidentemente il rendimento di Redding che deve lottare tutte le volte per il titolo del mondo ma comunque ricordiamo che Rinaldi ha vinto le due gare di Misano dove peraltro ero presente dal vivo e le ho viste e ho visto un Rinaldi veramente quasi tecnicamente che di testa c'era d'accordo che era la pista di casa però un pilota che fa tre podi di quei due vittorie nella gara scorsa non può letteralmente la gara dopo finire dodicesimo decimo e ottavo ci aspettava evidentemente qualcosa di più dal pilota romagnolo che secondo me insieme a tutta la Ducati ufficiale è stata la delusione del giorno considerato che soprattutto in una delle competizioni il migliore in assoluto è stato il leggendario Axel Bassani che probabilmente si candiderà al titolo di rookie dell'anno della Superbike che è un pilota veramente sorprendente uno che si è adattato velocissimamente a questa Ducati privata del team motocorsa una delle mie sorprese uno dei miei rider del giorno perché evidentemente un Bassani così che di fatto non ha mai corso in Superbike ha fatto qualcosa di un passato in Supersport adattarsi così velocemente alla Ducati con una moto comunque difficile e fare questi risultati all'esordio veramente lo premia come uno degli italiani più competitivi e uno come dei rookie più competitivi per cui a Bassani andrà uno dei miei tre premi del rider del giorno chiudiamo la parentesi però sugli italiani e parliamo di Andrea Locatelli che sta facendo comunque il suo in una Yamaha ufficiale che evidentemente punta tutto e giustamente sottopra che rasgattioglu che comunque ha rinnovato il contratto con la Yamaha Superbike per altri due anni dunque evidentemente mi auguro ancora una volta di vedere il turco primeggiare a questi livelli in Superbike e condenersela o con Jonathan Ray o con un altro pilota comunque che arriverebbe al suo livello Locatelli comunque per essere all'esordio sta facendo letteralmente una buona stagione sta facendo il suo considerato che comunque appunto è una Yamaha ufficiale ma che comunque non ha tutti i crismi del pilota turco comunque bravo Andrea Locatelli non c'era il quarto italiano iscritto allo Superbike ovvero Samuele Cavalieri che si è di fatto ritirato dal campionato dopo tre competizioni è stato studiato da Luke Mossi pilota inglese che ha fatto punti nella prima competizione di casa e poi appena fuori dai punti sia in Superpool Race sia in gara 2 diamo i premi però del rider del giorno tre ovviamente come al solito per ogni gara uno non può che essere lui ancora una volta Topra Kerasgatioglu l'ho detto prima ne ho incensato veramente le lodi fino a un secondo fa non mi ripeto Topra Kerasgatioglu comunque ha dimostrato ripeto ancora una volta in sintesi di essere il pilota non dico da battere in questa situazione ma comunque un pilota veramente tignoso un pilota che può rendere la vita difficile al cannibale Jonathan Ray che prima se la giocava con la Ducati con Sykes ma non erano mai al livello della costanza di Jonathan Ray tra Kerasgatioglu invece adesso abbiamo capito che lo è e dunque può essere da Assen figlio di Indonesia un pilota veramente pericoloso e dunque aspettiamoci signori una grande lotta per il titolo del mondo un altro rider del giorno l'ho già detto prima è stato Axel Bassani terza candidatura a pari merito sono invece per i due piloti che sono finiti sul podio nella gara di Donington con una mia preferenza in particolare ovvero Tom Sykes il tommone nazionale fa due gare straordinarie a Donington per quanto riguarda la Superpool Race e la gara 2 fa una gara molto bella anche in gara 1 per la verità ma non c'entra il podio per poco perché lo prende Alex Lows mentre appunto in gara 2 arriva di fatto il podio meritato peraltro battendo in volata Scott Redding nella Superpool Race c'è pure gloria in generale per la BMW per la casa di Monaco in generale perché c'è la prima doppietta storica da quando la casa di Monaco di Baviera è tornata a tempo pieno in Superbike perché Michael van der Mark anche lui testimonia la grande crescita di BMW una delle mie sorprese di questa gara di Superbike e fa podio il primo con la casa di Monaco terzo posto per colui che vince il campionato Supersport qualche anno fa ma Sykes evidentemente un po' perché è la pista di casa un po' perché ha dimostrato ancora una volta di avere il talento nonostante abbia un'età comunque abbastanza avanzata il tommone nazionale è un pilota da premiare come rider del giorno così come da premiare Garret Gerloff in particolare per la gara 2 una gara 2 che lo ha visto protagonista un Gerloff che poteva in realtà raccogliere leggermente di più soprattutto in gara 1 dove poi è caduto si è rialzato ha comunque recuperato ha fatto dei punti insomma Gerloff è un pilota spettacolare che diverte e fa divertire evidentemente gli spettatori me compreso qui in gara 2 è molto più concreto del solito e c'entra un podio molto interessante solo il secondo della stagione al netto che il talento del piatto americano è presente e io un domani me lo auguro di vedere nella Yamaha ufficiale spero in superbike a meno che con l'addio di Vignales in MotoGP non c'era spazio per lui visto che comunque ha già esordito in MotoGP quest'anno facendo pur fatica ma comunque la gara di Donington soprattutto la gara 2 ha dimostrato che Garret Gerloff il talento ce l'ha e potrebbe fare assolutamente assolutamente bene insomma tanti outsider ci sono stati in queste gare di superbike è mancata purtroppo la Ducati abbiamo visto invece una Honda che è tornata a essere a livello decente soprattutto con il piatto di casa letteralmente Leon Aslam la Ducati dovrà sicuramente però rialzarsi e tornare al weekend perfetto di Misano per Rinaldi e a quel weekend perfetto in parte che fu Esturil e ultima gara di Aragon Pesco Training che sembrava finalmente un pelota quadrata invece torna un attimo sulla terra con queste prestazioni tra Misano e Donington il prossimo appuntamento con la superbike sarà ad Assen quindi tra tre settimane weekend del 24 e del 25 di luglio dove c'era soltanto ovviamente il campionato derivato dalla serie e ci sarà il Racing Podcast dedicato e non sarà al martedì come oggi ma sarà la domenica a caldo alle 19 quindi questo Racing Podcast finisce qui fatemi sapere cosa ne pensate dei piloti che ho citato di quale è stata la vostra gara preferita e come vedete il proseguo del campionato l'appuntamento col campionato sportivo sul canale sportivo meglio sarà per quanto riguarda il GP di Formula 1 di Silverstone che sarà il 18 di luglio alle ore 19 e dunque fatemi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e condividetelo ai vostri amici e saluto da parte di MyTotOrgern ci vediamo al prossimo video